Sono americani, pensò il conducente dell'autopubblica numero 237, fermo al rosso del semaforo dietro il Duomo, ammesso che sotto quel diluvio di acqua e quello sporcuma di aria si potesse distinguere che quello era il Duomo di Milano. La ragazza però è italiana, pensò ancora, perché il rosso del semaforo gli permetteva di pensare e comunque non era una constatazione molto profonda, perché i due uomini che aveva raccattato all'aeroporto parlavano soltanto in inglese e la ragazza che era con loro parlava anche lei inglese, ma con accento più di Ferrara che di Oxford e lui, il conducente dell'autopubblica numero 237, aveva sentito nell'inglese della ragazza la cantata Natia e aveva riconosciuto così gente della sua stirpe, perché lui pure era di Ferrara e avrebbe voluto domandare alla ragazza se era davvero di Ferrara. Ci scommetteva un 500 d'argento, ma non si potevano fare domande ai passeggeri. E poi sono due pesi massimi, pensò nello stesso istante che venne il verde e insieme scattò di fianco al Duomo e anche questa non era una profonda constatazione. I due ci stavano appena nella 600, stavano con la loro testa rapata da Marines, un po' curva per non sbattere contro il tetto della vettura, e sorridevano gentili a tutto, con enormi denti da alligatori. La nuova ragazza sorridevano al Duomo sotto le raffiche di pioggia, sorridevano ai portici della Rinascente e ai manichini di ragazze dai capelli verde e argento che indossavano i sopravvitini terra di Siena di primavera, nelle vetrine fiorine di ramo di pesco, perché era primavera anche se pioveva, e avevano in tasca ciascuno, così sorridenti, una stick calibro 9 con proiettili dirompenti, il che vuol dire che non importa dove il proiettile arrivi, basta che arrivi anche al polso e voi saltate in aria come vi avessero acceso una bomba sotto la sedia. I sette ore prima erano a New York e ricevevano in consegna le due stick, e poi all'aeroporto avevano trovato la brunetta ferrarese che li guidava adesso all'hotel Duomo. «The best hotel in the city», aveva detto ai due la ragazza inimpermeabile rosa foscorescente, così forse per farsi notare il miglior hotel della città. I due sorridevano e assentivano, tutte e due rapati, tutte e due con quel giaccone di pelle cenerina, con su uno dei risvolti, un grosso bollo rosso, un fiore all'occhiello, tanto anche loro forse, per farsi notare, come se infatti avessero paura di non essere notati.